Vino toscano imbottigliato solamente in Toscana e questa è la proposta che il consorzio Vino Chianti presenta anche al Ministero delle Politiche Agricole. Un passo molto molto importante per una denominazione come quella del Chianti che da oggi in poi praticamente potrà essere imbottigliata soltanto in Toscana. Questo è un fatto di estrema importanza per tutta la filiera, quindi da una parte per chi produce perché naturalmente è garantito anche lui che gli altri siano controllati come lui stesso viene controllato oggi. Ma è una tutela anche nei confronti del consumatore perché a questi punti un prodotto che è più che controllato naturalmente viene anche di conseguenza tutelato il consumatore stesso. Ecco questa è una regola che dovrebbe valere per i nuovi, per chi già è fuori dalla Toscana come funziona? Beh questo qui sempre le cose oggi con la comunità europea, naturalmente con la salvaguardia dei diritti acquisiti, su questo diciamo chi già imbottiglia per da oltre 5 anni, per almeno 2 anni in questi 5 anni ha diritto di continuare ad imbottigliare il Chianti. Ma su questo non abbiamo nessun problema, anche perché sono tutte aziende che ormai conosciamo, sappiamo cosa imbottigliano, come imbottigliano. Consideriamo poi che quello che viene imbottigliato al di fuori della regione toscana si tratta di piccole quantitativi, sono circa il 5-7%, quindi non destano preoccupazioni quantitativi del genere. Vedete?